il pomodoro è quello il futuro al sapore intenso e gustoso e speriamo che piove che quello è raccolto tiene bisogno di acqua ma mica troppo pure disco un poco d'acqua e poi c'era anche un piccolo regalino al posto del tappo un d'italia per cucine a voi idulio idulio voglio i due leoni grazie